C'è stato un nuovo dissing tra Elisa Angius e Giada Scognamillo Mi hai chiamata all'una e mezza di notte Stai continuando a far credere, secondo te, agli altri che quella chiamata sia stata una chiamata di amore Sono volate frecciatine shock Stavi comunque prendendo in giro e non te lo puoi permettere, a mio parere, tu Peccato che ci hai convolti entrambi, per questo hai dato l'idea agli altri che sei gelosa È davvero una storia senza fine Sono innamorata follemente di Gabriel Sì, non risponderò più Pace e amore Ciao scappati di casa, io sono Fabrizio e Valerio è il mio cognome Benvenuti in questo nuovo, nuovissimo video dedicato al collegio numero 7 C'è stato un nuovo dissing tra Elisa Angius e Giada Scognamillo Sarà vero? Sarà falso? O sarà che non ce ne frega un c***o? Prima di iniziare però come sempre vi ricordo di iscrivervi al mio canale Qui sotto trovate un tastino con scritto iscriviti per non perdervi appunto tutte, tutte, tutte le cose che devo raccontarvi Del collegio, dei gossip, dei drama Super super shock Vi ricordo poi anche di seguirmi su Instagram dove mi trovate come Fabrizio Valerio Ed ovviamente anche su TikTok dove sono sempre Fabrizio Valerio Ed eccoci qua ragazzi, nuovo video dedicato al collegio numero 7 Nuove notizie super super shock che vi devo raccontare Anche perché ragazzi voi non siete pronti Ma voi non siete pronti neanche A parte a dire addio, ciao al collegio numero 7 Che si concluderà proprio stasera Un'edizione che ci sta facendo volare verso l'infinito E oltre con tanto di drama, dissing, frecciatine Ed oggi non farò a meno di raccontarvi tutte e tutte queste cose Ma voi non siete pronti neanche al mio outfit natalizio Perché insomma mancano pochi giorni neanche a dicembre Mancano pochi giorni a Natale Noi siamo già nel mood, che te lo dico a fa Di All I Want For Christmas Is You O forse All I Want For Christmas Is Drama Comunque a grandissima richiesta Torniamo a parlare del triangolo amoroso di questa stagione Sì, da una parte abbiamo la coppia super super bellissima La mia prefe in assoluto perché glielo ho anche detto Loro sono Elisa Angius e Gabriel Che in questi ultimi giorni hanno pubblicato anche un video Dove sono insieme perché credo che Elisa sia andata a Roma da Gabriel Insomma questa è una cosa molto bella Ma dall'altra parte abbiamo ovviamente la persona Che si è andata forse ad infilare in questa coppia Parliamo infatti della collegiale Giada Scognamillo Che lo sapete meglio di me in questi giorni Non si è tenuta un cecio in bocca Ha detto tutto quello che voleva E soprattutto ha lanciato delle frecciatine Super super shock Oh mio dio sono super emozionated E infatti il nostro racconto parte proprio da dove ci eravamo lasciati Anche perché come ben sappiamo Giada Scognamillo aveva pubblicato un TikTok Nel quale diceva Quando insomma per colpa mia La coppia più bella del collegio litiga E aveva anche pubblicato uno screen di una chiamata tra lei e Gabriel Rennis Ma che cosa succede che di fronte a queste cose insomma sia lei che Elisa Angius Se ne erano dette di tutti i colori Ma arriviamo al giorno d'oggi o comunque a qualche giorno fa Nel momento in cui Giada Scognamillo Stanca di ricevere in continuazione critiche, commenti negativi, insulti dagli haters Decide appunto di fare chiarezza una volta per tutte sulla sua festa di compleanno Sull'invito per Gabriel alla sua festa di compleanno E soprattutto fa riferimento a quella chiamata Una chiamata che è stata d'amore oppure no? Che ha qualcosa di misterioso dietro oppure no? Beh sappiamo che è stata una chiamata fatta a luna e mezza di notte Per il resto guardiamo insieme cosa lei stessa ha raccontato Guardate Ciao a tutti, faccio questo video spiegazione Innanzitutto vi ringrazio per gli amorevoli commenti che mi avete lasciato sotto il video Ve li faccio vedere nel caso ve li foste persi Ovviamente questi sono due esempi perché Con tutti i 1093 commenti che avevo negativi non avevo voglia di screenshotarli tutti Parto dicendovi che era semplicemente ironia Non è stato fatto assolutamente né per ferire Gabriel né per ferire Elisa né per litigare con nessuno Però ditemi voi perché magari è una mia strana percezione che ho delle cose Perché non so voi ma a me sembra un po' strano che io chiedo se vogliono venire al mio compleanno Un mesetto prima della festa anche di più E magicamente Rennis si libera a luna e mezza di notte del giorno della festa Quando inizialmente lui mi disse che era occupato proprio in quel giorno Ma la cosa si fa divertente Non vi farò il nome della persona precisa che me l'ha detto Per rispetto di quella persona per non metterla nella merda Però appunto mi è stato detto che lui alla festa non ci andava Non ci veniva perché pensava fossimo in tre o quattro gatti Peccato che ha visto che abbiamo iniziato a mettere contenuti Storie, tiktok e tutto Ci stavamo divertendo come dei bambini in un negozio di giocattoli E ha detto ma quasi quasi dovrei andare anche io Peccato che non me l'ha scritto subito un mese prima Me l'ha scritto, anzi mi ha chiamata all'una e mezza di notte Voi tutti a dirmi Eh chissà che cosa vi siete detti in 18 secondi Innanzitutto io non so la chiamata di quanto è stata Ma non è stata di 18 secondi ovviamente È che appena abbiamo visto che mi stava chiamando qualcuno Non mi ricordo chi ha fatto la foto Per cui cioè anche quello Ovviamente a me sta cosa mi ha scazzato di brutto proprio Ma proprio tanto Perché non è che tu ti liberi magicamente all'una e mezza di notte Per cortesia non diciamo stronzata Quindi se lui avesse scelto Ma non per forza un mese prima quando io li ho invitati Ma magari anche una settimana Una settimana e mezza prima Mi ci fa Guarda già vengo alla fine perché mi sono liberato È un conto Ma così è proprio anche antisgamo Gabriel svegliati Ammetto che ho davvero sentito la mancanza di Gabriel Dato che come avete detto voi Io sono gelosa pazza di loro due E sono innamorata follemente di Gabriel Però sono sopravvissuta Detto questo pace e amore a tutti Un bacio eh Ed è proprio nei commenti di questo video pubblicato da Giada Scognamillo Che Gabriel Rennis lascia alcune parole Perché voi non siete pronti Perché lui dice Vabbè già anche meno però Già che te fai le foto mentre ti chiamo Penso valga più di mille parole eh Comunque usiamo tanto la parola ironia Ma intanto come l'hai fatto il video insomma no Ironia mica tanto no E lei dice amore uso la tua stessa ironia Ed è proprio di fronte a questo video Che una persona in particolare decide di mettere la parola fine a questo dissing A queste frecciatine A tutto questo drama che si poteva largamente evitare E parlo ovviamente di Elisa Angius Che di fronte alle parole di Giada Scognamillo Decide di fare una volta per tutte chiarezza Ma soprattutto ci tiene a precisare una cosa E cioè che lei in tutta questa vicenda Non c'entrava assolutamente nulla Anche perché se le frecciatine dovevano essere rivolte a Gabriel Se tutto questo drama, ironia, quello che vi pare Riguardava esclusivamente Gabriel Perché mettere in mezzo anche Elisa Dicendo Ah vabbè la coppia del collegio ha litigato per colpa mia Insomma la domanda che si fa Elisa è Ma io se non c'entravo niente Perché mi avete messo in mezzo Ma ha detto tante tante altre cose Anche qualcosa che riguarda la chiamata Sciocca all'una e mezza di notte Tra Elisi, tra Elisa no Tra Gabriel e Giada Guardate Tutto questo pace e amore a tutti Un bacio eh Ma se come dici tu nei commenti Io non c'entravo niente Con il video e mi sono messa in mezzo Cioè io non solo ho fatto un video Nonostante non avessi voglia di parlarne Ma mi hai costretto tu Perché hai portato Hai dato un'immagine falsa Di quello che era successo davvero Scopri pure che non c'entravo niente Hai detto che è un video ironico Per intanto La presa in giro Per il fatto la coppia più bella del collegio c'era Quindi Ironia o no È la stessa cosa E in più Dici che il video era riferito Solo a Gabriel Ma se il video era solo riferito a Gabriel Come dici tu Perché hai messo in mezzo La coppia del collegio Litiga per colpa mia Perché non hai detto Non ti sei riferita solo a Gabriel In quel video Potevi benissimo Fare un commento ironico Per lui Peccato che ci hai convolti entrambi Per questo hai dato l'idea agli altri Che sei gelosa Non perché io penso tu lo sia davvero Perché L'hai data tu l'idea Capisci Per questo Perché potevi benissimo fare un video Dove parlavi solamente di Gabriel Non della coppia del collegio Più bella Cioè ma Stai continuando a far Credere Secondo te Agli altri Che quella chiamata Sia stata una chiamata Di amore Ma non importa Perché io so il mio E mi basta questo E intanto E intanto hai comunque messo una storia Dove dicevi Due ragazzini Secondo voi dovrei essere gelosa Di due ragazzini Quindi video ironico Stavi comunque prendendo in giro E non te lo puoi permettere A mio parere tu Perché già una che fa Questi video ironici La coppia più bella del collegio Litiga Dimostra quello che è Insomma Il fatto è Che Giada poteva avere Tranquillamente ragione Parlando del fatto Che Gabriel L'ha chiamata L'ultimo Io questo Non mi riguarda E non mi voglio mettere in mezzo Però Se ce l'avevi con Gabriel Per questa cosa qui Che non c'entra niente con me Perché hai messo un video Dove dicevi Quando la coppia più bella del collegio Mi hai messo in mezzo Capisci Io mi sono sentita Presa in causa Anche perché Hai dato un'idea sbagliata Di quello che era realmente Fine Detto questo Vi assicuro Ve lo posso giurare Che non farò più video Riguardo questa storia Ve l'ho già spiegato Non avevo voglia di fare il video Figuratevi sentirmi dire Che l'ho fatto giusto Per mettermi in mezzo Non importa Basta così Non risponderò più Pace e amore E anche qui Nei commenti Gabriel Rennis Ha deciso Di lasciarne uno Dei suoi Perché dice Vabbè Lascia sta Almeno Sono cosa Ha ragione Siamo a coppia Più bella E io aggiungerei Del collegio Sette Perché in effetti Ragazzi Nonostante tutti questi drammi Nonostante tutti questi dissing Gabriel ed Elisa Sono ancora insieme Strano Ma vero Sono ancora insieme Lo testimoniano Gli ultimi video Che proprio loro hanno pubblicato Perché si sono visti A Roma Quindi ragazzi Una cosa Devo dirla A prescindere dal fatto Che a me la coppia Elisa Gabriel Il piaccia molto Devo ammettere due cose La prima è che In effetti Già da un po' Ragione Ce l'ha E vi spiego Perché Se io invito una persona No E questa persona Mi dice No guarda Io non posso venire Perché ho un impegno Blablabla E poi 24 ore prima Ma neanche Della festa Mi dice Ma posso venire Blablabla Blablabla Un po' Il sospetto Mi viene O che questa persona Vuole venire Perché è resa conto Che non siamo Quattro gatti Ma siamo più persone Blablabla O insomma Un po' Minacidisco Perché dico come Eri impegnato Un mese prima Che te l'ho chiesto E adesso All'ultimo Ti sei liberato E non sai che fare Vuoi venire Cioè ci sta La reazione Che ha avuto Giada Perché comunque Tu inviti una persona Questa persona Ti dice No non posso Poi all'ultimo Ti dice Si posso Vuol dire che I piani di questa persona Sono stati cambiati All'ultimo E adesso può venire La tua festa Un po' ti girano Cioè del tipo Vabbè Avevi un evento Più importante Ti sei liberato E vuoi venire Alla mia festa Ci sta ragazzi Però quello che non capisco Per quanto riguarda Giada È il fatto di aver voluto Immortalare il momento Della chiamata Con Gabriel Cioè che senso Ha avuto fare quella Foto Alla chiamata Era un modo Per buttare Non so Benzina sul fuoco Comunque per Seminare Zizzania Tra Gabriel Ed Elisa Tutto può essere Ragazzi Perché ricordiamoci Che Giada Comunque Un po' Una crush Ce l'aveva Nei confronti Di Gabriel O mi sbaglio Ma insomma Staremo a vedere Quello che succederà Dall'altra parte Mi sento di dire Anche una cosa Che Elisa Angius Ha ragione Nel dire Scusate Ma se è una cosa Tra di voi Che senso ha avuto Parlare di me Cioè in effetti Lei si è trovata In mezzo a sta situazione Perché Solo perché È la fidanzata Di Gabriel Ma lei In tutta questa vicenda Al compleanno È stata invitata Boh Non credo Però Qua alzo le mani Perché non so La verità Ma al tempo stesso Non ha neanche fatto nulla Per creare un dramma Nel compleanno di Giada Anche delle frecciatine È qualcun altro Avevo detto Del cavolo Quindi io Io non risponderò Io non risponderò più E così il giorno seguente Tutti quanti Aspettiamo Questo video Sulla verità Di Mattia Camorani Ma a quanto pare Non stava molto bene Tant'è che ha pubblicato Un selfie Scrivendo questo Oggi Spero di trovare Al più presto possibile Cioè perché L'ho proprio scritto Per dire Sì ok Ma quindi Che sta succede Eccolo qui Allora Io scrivo Ma Non dovevi dire ancora Cose su Gabriel Noi aspettiamo Con l'emoji dei popcorn E arriva la risposta Di Mattia Camorani Che dice La mia vita Non è così noiosa Da dedicare del tempo Ad una persona del genere Quindi Valuterò Se varrà la pena Sprecare del tempo Per confermare La mia superiorità E ovviamente Noi di fronte A questa risposta Aspettiamo A braccia aperte Questo video Questa verità Che tanto Ci ha detto Sui social Non ancora Ma insomma Ce l'ha annunciata Lo stesso Mattia Camorani Arrivati a questo punto Però adesso Fatemi sapere Voi qui sotto Nei commenti Cosa ne pensate E soprattutto Se il video vi è piaciuto Lasciate un bel pollice in su Iscrivetevi al canale Se ancora non l'avete fatto E qui sotto Trovate tutti i miei social Dove potete seguirmi Io e Mark Vi salutiamo E noi ci vediamo In un prossimo video Vero Mark? Vai Saluta Mark Vabbè ragazzi Anche oggi noi Ci abbiamo provato Ciao